Io, nessuna responsabilità, io sto raccontando quello che è successo, perché purtroppo per Genovese parlano le telecamere che in vano ha tentato di cancellare, però siamo in una trasmissione televisiva e non mi va di far passare per Educanda chi Educanda non era. Perché come dice Fabrizio, o come dice uno che ha un minimo di cervello, una persona che stupra in modo selvaggio una ragazza in tutti i modi, non credo lo faccia la prima volta. Non credo che lo faccia la prima volta. E quanto sento che si difende dicendo, eh vabbè ma avevo preso la droga quindi non capivo. La differenza tra legalità.